Partiamo dagli ultimi fiscine. Ciao, ciao. Direzione di lato. Ah, giriamo. No, no, la direzione è questa. La piazza Solferino. Facciamo via San Francesco. Sì, sì. Via Pietro Missio. Cosa è successo? Che dici se la macchina ci sono? C'è la rosa. C'è la ragione, perché se no, questo vorrebbe dire che siamo in Corea del Nord, una cosa del genere. Non si aspettano a vedere questo genere. No, assolutamente no. No, si immagini dopo quattro anni, ma nessuno se l'aspettava una cosa del genere. Uno che, una persona normale, dice che questo è un paese di manti, dove non c'è più alcuna certezza. Può succedere di tutto. Hai pensato lì nell'altro? Queste cose ti rafforzano, come dire, rafforzano la determinazione, perché non è tanto una questione personale, e anzi, la questione è di difendere dei principi, di difendere anche la democrazia. Quindi no, no, non mollo. Guarda, un commento su un mano caso. Ieri, guarda caso, Bianparino esce dall'indagine per Augusto Appisio. Non c'è bisogno di commentare. Ciao. Come種a? Grazie a tutti.